Buongiorno, sono Angela Possidente, Diabetica Tipo 1 e Presidente di Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata. Oggi mi trovo qui alla tappa di Salerno perché credo che sia importante partecipare a queste iniziative di Insieme per la Gestione del Diabete, non solo per ricevere nozioni, ma anche per fornire feedback e gestire al meglio la patologia. È fondamentale conoscere l'educazione terapeutica perché ci consente di vivere al meglio la nostra vita e imparare a gestire quotidianamente quelle che sono le stile quotidiane, soprattutto con il lavoro sempre più frenetico e movimentato. La tecnologia oggi è fondamentale perché ci consente di vivere una vita smart, di avere a portata di mano in maniera digitale tutti gli strumenti per gestire al meglio il diabete. La nostra associazione AGGD Basilicata è l'unico coordinamento che si occupa di diabete tipo 1 nella regione Basilicata e siamo affiliati ad AGGD Italia e Diabete Italia. Svolgiamo tanti progetti in favore principalmente dei bambini, dei ragazzi affetti da diabete, dagli esordi alla gestione della scuola, ma anche creiamo momenti di convivialità e di dialogo fra le famiglie. fondamentalmente crediamo che convivere e scambiarsi idee e informazioni sia la chiave del successo. Il tutto si può sintetizzare con il motto dell'associazione che dice diabete non ci fai paura, noi siamo in tanti e tu sei solo uno.